In questo video vediamo i 5 migliori set di comodini in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5 Al quinto posto troviamo Dauba. Questo set doppio di comodini da camera classico e in design moderno vi conquisterà. Qualità eccezionale combinata con un'ottica temporale. Grazie alla semplicità del disegno, questo comò sarà perfettamente integrabile in qualsiasi stile di arredamento. Un cassetto di facile apertura con manico in ottica alu ed un ripiano extra offre uno spazio doppio per tutti i tuoi oggetti. Includendo anche il piano superiore, avrai spazio per la sveglia, il tuo libro preferito o per altri accessori utili. Con un'altezza ad elevato comfort di 41 cm, il comodino è comodo per raggiungere gli oggetti anche direttamente dal letto, avrai tutto a portata di mano. Grazie ad un design semplice e dalle istruzioni ben illustrate questo comodino da camera sarà montato in un batter, d'occhio. In questo modo non dovrai rimanere alzato tutta la notte, ma potrai goderti le tue meritate ore di sonno e riposo. Il prezzo è di 58 euro. Numero 4 Al quarto posto troviamo Vida XL. Realizzato intrucciolato di qualità, questo comodino è robusto, durevole e versatile. Grazie allo stile universale potrete utilizzarlo anche come tavolinetto in soggiorno. I due cassetti offrono ampio spazio per conservare riviste, libri, telecomandi e altri piccoli oggetti in ordine e a portata di mano. Questo comodino è facile da pulire con un panno umido. Rinnovate l'aspetto dei vostri interni portandoli al livello successivo grazie a questo elegante comodino. Grazie ai materiali di montaggio inclusi, è facile da montare. Il prezzo è di 64 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3 Al terzo posto troviamo Iatec. Questi comodini a tre cassetti sono realizzati con pannelli in MDF di alta qualità e impermeabili e costruiti in forma cuboide, perfetto per un utilizzo di lunga durata. Offre una grande capacità per smistare e riporre piccoli oggetti. Il piano del comodino è abbastanza grande per collocare oggetti come una cornice per foto, una lampada o una tazza di acqua e caffè. Inoltre, nei tre cassetti è possibile riporre oggetti come telecomandi, kit per manicure, rasoio, asciugacapelli e caricabatterie in maniera ordinata. Il prezzo è di 135 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo Oncom. Il pannello frontale di questi comodini è costituito da pannelli lucidi che conferiscono una sensazione di eleganza, in grado di integrarsi bene con qualsiasi stile. La finitura liscia lo rende invece facile da pulire. Con questi due comodini con cassetti, potrai sfruttare al meglio lo spazio tra il divano e la poltrona, o tra il letto e la parete. Dotato di tre cassetti, questo comodino moderno offre ampio spazio per gli oggetti personali e altri accessori a portata di mano. Sul piano è possibile esporre foto e decorazioni. Il comodino è realizzato con pannelli di trucciolato per garantirne la stabilità. Inoltre è dotato di maniglie in metallo per facilitare l'apertura del cassetto. Il prezzo è di 139 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo Tidiard. Il legno di pino ha una venatura dritta e i suoi nodi conferiscono al materiale quel caratteristico aspetto rustico. Dotati di un cassetto e di un scomparto, i comodini offrono un pratico spazio dove riporre le vostre riviste, libri, telecomandi e altri piccoli oggetti, tenendoli ben organizzati e a portata di mano. Il piano stabile è ideale per collocare oggetti decorativi come cornici fotografiche e piante in vaso. Il lato alto del mobile può essere montato a sinistra o a destra a seconda delle vostre esigenze. Il prezzo è di 172 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.